Vuoi entrare nei City Angels? Bravo! Ti faccio i miei complimenti perché dimostri di avere cuore, di avere voglia di rendere la tua città migliore con il tuo contributo personale. Ti dico anche attento, perché il nostro è un tipo di volontariato molto particolare. Ci sono mille tipi di volontariato, tutti bellissimi, credo che ciascuno può e dovrebbe fare volontariato, ma non tutti possono fare i City Angels. Il nostro è un volontariato di frontiera, un volontariato sulla strada, noi operiamo soprattutto nelle ore serali, notturne e soprattutto nei punti più difficili e delicati della città, dove ci sono persone che vivono per la strada e persone che muoiono sulla strada. E il nostro compito è quello di essere volontari di strada d'emergenza. Andiamo sulla strada con questo basco blu e maglietta rossa per essere un punto di riferimento per chi ha bisogno e un deterrente visivo per i malintenzionati, perché se vediamo che qualcuno fa del male a qualcun altro non ci voltiamo dall'altra parte, ma interveniamo, come qualunque buon cittadino dovrebbe fare. E cosa facciamo sulla strada? Facciamo tutto ciò che serve dall'aiutare senza tetto, accompagnare ragazze che ci chiedono di essere scortate a casa la sera perché hanno paura di andare da sole perché temono brutti incontri. C'è una vecchietta con le borse pesanti della spesa, noi gliele portiamo come se fossimo i suoi figli o nipoti. Qualcuno al banco, Matt, che teme un'aggressione, noi stiamo lì a controllare che non accada nulla. Un turista che chiede informazioni, che non sa dove andare, gli diamo informazioni e lo accompagniamo in albergo. Un animale in difficoltà, aiutiamo anche quell'animale perché noi siamo pronti ad aiutare bipedi e quadrupedi. Chi ama la vita l'ama in tutte le sue forme. Quindi se te la senti di fare questo tipo di volontariato, che è un volontariato molto particolare, e senti nel tuo cuore questa sacra fiamma che ti spinge a farlo, contattaci. Qui sopra c'è le nostre sedi, c'è l'elenco di tutte le città in cui siamo presenti, puoi telefonare o puoi mandare una mail e se farai così se entrerai nei City Angels sarò felice di incontrarti presto. Ciao!